Vittoria Puccini si è raccontata sulle pagine di Grazia. L'attrice ha parlato della serenità ritrovata con Alessandro Preziosi. Inoltre, ha raccontato l'amore con Fabrizio Lucci e ha detto la sua sullo scandalo delle molestie nel mondo dello spettacolo. Dal 2004 al 2010, Vittoria Puccini è stata legata ad Alessandro Preziosi. Dalla relazione con l'attore è nata Elena, che oggi ha undici anni. Se all'inizio tra loro ci sono state delle incomprensioni, ora hanno ritrovato la serenità. Il tempo guarisce. Con Alessandro ha un buon rapporto, il male lentamente sparisce e rimane l'affetto perché abbiamo in comune una cosa molto importante, nostra figlia. Ci confrontiamo, parliamo di lei, vogliamo far crescere Elena insieme e non separatamente. Per questo ci troviamo spesso tutti e tre per qualche pranzo o cena. È una cosa che fa bene a nostra figlia. Da tempo ormai, Vittoria Puccini è fidanzata con Fabrizio Lucci, direttore della fotografia. Di lui ha detto, Fabrizio è un uomo realizzato ed è soprattutto un uomo che c'è sempre. Questo mi dà pace. La nostra coppia funziona perché ci aiutiamo a vicenda. E poi sono convinta che sia stato importante il momento in cui ci siamo conosciuti. Forse, se ci fossimo incontrati quindici anni fa, non sarebbe stato lo stesso. Bisogna trovarsi nel momento giusto. Infine, l'attrice si è espressa sullo scandalo delle molestie nel mondo dello spettacolo. Credo che oggi gli uomini, prima di abusare del loro potere, stiano più attenti. È una rivoluzione che coinvolge anche noi, vittime di un retaggio culturale che ci portava ad accettare ciò che non era accettabile. A me non è mai capitato di essere oggetto di molestie e mi sono chiesta che cosa avrei fatto se, a venti anni, mi fosse successo di ricevere attenzioni da parte di un uomo potente. Non è facile denunciare. È una violenza intima, che può scioccare, paralizzare ogni donna. E in questo processo mediatico a cui abbiamo assistito, ogni caso è a sé. Non bisogna esprimere dei giudizi senza conoscere bene le vicende. Chi se ne frega.